Prattuta a ricostruire, vedete qua l'osso c'era e quindi si sono potuti mettere impianti convenzionali. Provisori, infatti vedete qua non si vedono i denti perché sono in resina. Sono provvisori caricati solo davanti, dietro no perché ha ricostruito, ha fatto il seno macellare, la ricostruzione. Quindi in quei casi non carichiamo già i denti, dietro perché non devono avere vibrazioni gli impianti. Se hanno vibrazioni il corpo le percepisce come corpi estrani e non le integra. Se invece stanno lì sotto coperti, quelli si integrano. Poi dopo quando torna si fanno i denti con materiali definitivi, come quelli che vi ho fatto vedere finora, e si montano i materiali definitivi in bocca.